Ciao, io sono Anna, sono la responsabile di Sportello del CSV e abbiamo organizzato questa giornata, essendo l'anno europeo del volontariato, una giornata celebrativa con tutte le associazioni del territorio di Lanciano. Alla pedalata hanno partecipato anche i 34 giovani provenienti da 6 paesi europei impegnati nel progetto di scambio giovanile oltre la linea d'ombra. Com'è andata la pedalata? Benissimo, eravamo in tanti, sicuramente una bella iniziativa, ho visto delle parti della città che non avevo mai visto e c'erano molti ragazzi da molti paesi dell'Europa, una bellissima iniziativa. Oltre alla pedalata per le strade cittadine, Lanciano è stata animata dagli stand delle associazioni di volontariato, da laboratori creativi per bambini, da attività di vigilanza con le guardie ambientali, da un laboratorio musicoterapico dal titolo Il mare calmo della sera ed uno spettacolo teatrale dal titolo Un sorriso che accoglie volontari per la vita. Buongiorno a tutti, vi presento i ragazzi dello scambio interculturale che vi vogliono fare un piccolo saluto. Grazie a tutti.